Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Stai a giocare, non stisca altro E un bre, matalo, matalo Camperon dietro la cru Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube Blame it on the goose, got you gonna lose Blame it on the goose, got you gonna lose Got you being a soul, blame it on the ah 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 Welcome to the bar Can I get you a drink? Blame it on the henry, blame it on the goose Got you feeling dizzy, blame it on the ah 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 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi E come avete visto di fondo ci sono dei trailer di FIFA Proprio l'argomento di cui andremo a parlare in questo video ragazzi Allora, ho intenzione di fare un progetto nuovo Diciamo, una sorta di contest Riguardante FIFA ragazzi Riguardante FIFA In cui ho intenzione di regalare 100.000 crediti FIFA Allora Per guadagnare questi 100.000 crediti FIFA Mi spiego come andrà Come si svolgerà questa cosa Allora, per guadagnare questi 100.000 crediti FIFA Ovviamente ci sarà un primo, un secondo e un terzo classificato E andrà sorteggiato tramite un programma online E avrete tempo per il sorteggio in pratica fino a lunedì ragazzi Fino a lunedì della prossima settimana E cosa dovete fare? Innanzitutto per partecipare a questo contest dovete scrivere Partecipo sotto a questo video E devo raggiungere Devo raggiungere Ascoltate bene ragazzi perché Ve lo sto dicendo poi non mi dite Non l'avevi detto o cosa Devo raggiungere Un minimo di 50 like Allora Ricapitolando Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale per partecipare al contest E condividete il mio video E questo video deve raggiungere Un minimo di 50 like ragazzi Un minimo di 50 like Poi vedrò Se magari sono 48 Non è un problema Se sono 45 Non è un problema Però comunque sia Un minimo di 50 like Per fare l'estrazione L'estrazione come ho detto Si svolgerà tramite Un programma online Io personalmente Vi darò questi crediti Questi crediti FIPA Quindi non ci saranno Non ci saranno problemi Per quanto riguarda questo L'estrazione si terrà lunedì Ve lo sto ripetendo tutto In maniera tale che voi capiate bene Cosa Come funzioni L'estrazione si terrà lunedì Il primo classificato O il primo estratto Vincerà 50.000 crediti Il secondo estratto Vincerà 30.000 crediti FIPA E il terzo estratto Vincerà 20.000 crediti FIPA Ragazzi Quindi comunque ci sarà Una premiazione Per il primo Il secondo E il terzo Quindi Partecipate ragazzi Per partecipare Ve lo ripeto ancora Così Non ci saranno equivoci Iscrivetevi al canale Condividete il video Fate in modo che questo video Arrivi a 50 like E ci sarà questa estrazione Ragazzi Non so cos'altro dirvi Spero che questa iniziativa Funzioni E se funzionerà Ci saranno altre iniziative Di questo tipo E anche riguardanti altri giochi Per questo video è tutto Un saluto da Marzi Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti